Siamo nei pressi del Codma, come vedete alle nostre spalle c'è l'operatore Filippo Pucci che sta riprendendo in presa diretta le operazioni di spegnimento di questo camion che è andato a fuoco per ragioni che ancora non si conoscono qui dopo la rotatoria del Codma e in questo momento è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, sembrerebbe essere un camion di vernici ci sono state alcune esplosioni per il contenuto all'interno del cassone del camion una forse partita dalle ruote o dai freni e siamo ancora in fase di accertamento sono sul posto già due squadre dei vigili del fuoco, un'altra sta arrivando da Pesaro e tra l'altro un lampione della pubblica illuminazione in questo momento è venuto giù proprio per effetto del calore